Ieri devi fare proprio le cali dì, prendi il russolo, e lì mi avevano insegnato, ma non l'hanno detto quella volta. Quando fai gradire in dicembre, fai di lato, anche quando c'è la neve, poi ci fanno scivolare. Infatti, perché siamo andati in bilancio, io le faccio sempre di lato, anche perché siamo andati in giro per il mondo, abbiamo scalato queste cose, anche quando c'è lato in Messico sulla piramide laggiù, se non le fai di lato, come fai? No, davvero, sì. Dai, dai, dai.